Siamo con il sindaco di Teggiano Rocco Cimino, sindaco. La minoranza consigliare con un manifesto pubblico ha definito la sua vittoria nata sotto il segno della giusto. Quali sono le prime reazioni alla lettura di questo scritto? Ma è già un'altra occasione, ho ritenuto questo ricorso inopportuno e ritengo che anche questo manifesto sia inopportuno. Come dicevano i latini, escusatio non petita, accusatio manifesta, nel senso che hanno sendito il dovere di giustificare i motivi di un loro ricorso che a nostro avviso non sta né in cielo né in terra. C'è stata una competizione elettorale, non c'è stato un nostro ricorso alla ricusazione della lista, ma semplicemente una richiesta in autotutela con un'integrazione successiva di documenti che hanno comprovato la veridicità delle firme. Ma la cosa più importante è quello che dicevo prima, c'è stata una competizione elettorale, l'agenda si è espressa chiaramente, per cui piuttosto che fare manifesti mi sarei aspettato che la minoranza si mettesse al servizio del Paese per cercare di venire incontro alle esigenze che la comunità ha in questo periodo, che sono tantissime, in un periodo soprattutto in cui ci saranno a breve i bandi per la nuova accelerazione di spese, i fondi europei dal 2014 al 2020. Ci sarebbe molto da lavorare, sarebbe stato più opportuno che la minoranza si mettesse con noi in un tavolo di concertazione per cercare di operare nell'interesse della comunità. In seguito alla pubblicazione del manifesto di Teggiano Va Avanti, lei e la sua maggioranza consigliare avete intenzione di eventuali risposte? Assolutamente no, non credo che ci sia nulla da rispondere. La risposta sta nei fatti, sta nel risultato elettorale, la gente ha la maturità e la capacità di valutare tutto, noi non abbiamo niente da rispondere. Avranno ritenuto fare un manifesto, aspettiamo il ricorso, come già detto altre volte noi siamo assolutamente fiduciosi nell'esito della giustizia, ma qualunque cosa deciderà la giustizia amministrativa, insomma noi non siamo nessuno per poterlo giudicare. Aspettiamo con fiducia, però nel frattempo non siamo con le mani in mano e cerchiamo di lavorare. Grazie! Grazie!